Salve a tutti, in questa parte del corso vediamo i settaggi di luminosità e di regolazione del colore e altre cose del genere, ma faremo anche un ripassino e vedremo alcune cosette. Allora, prima di tutto, vediamo un po' la luminosità generale dell'immagine. Allora, se andiamo in immagine, troviamo prima di tutto tre cose automatiche che possono fare un cambiamento al volo senza un nostro intervento manuale. Tono automatico, contrasto automatico, colore automatico. Sono tutti settaggi che potete sperimentare ma non avete controllo su di essi. Vediamo un po'. Colore automatico, guardate i colori. Ecco qua. Questo è l'intervento automatico di Photoshop. Per Photoshop il colore sarebbe meglio impostato così. Facciamo modifica a nulla. Stessa cosa, immagine, contrasto automatico. Ecco qua, modifica a nulla. Il cambiamento non è praticamente visibile. E tono automatico. A nulla. Allora, andiamo invece a regolare noi stessi qualcosa. Allora, regolazioni, luminosità, contrasto. Ed ecco che si apre questo pannello. Allora, anche questo pannello in realtà ha una voce automatico. Infatti, vediamo Photoshop cosa ci suggerisce. Automatico. Ecco qua, in pratica, Photoshop ha aumentato la luminosità a 28 ed ha aumentato il contrasto a 9. Se ci va bene, possiamo fare ok. Altrimenti noi possiamo spostare questi selettori e sperimentare in anteprima. Assicuratevi che questo settaggio sia spuntato. Questo ve lo dico adesso una volta sola. Tutti i vari settaggi che hanno questa voce anteprima significa che voi potrete vedere il cambiamento in tempo reale prima ancora di applicarlo. Quindi, se voi togliete la spunta, l'immagine rimane com'è. Ma non è consigliabile, perché ovviamente voi dovete vedere come sarà il cambiamento prima di applicarlo. Se non c'è, dovete applicarlo per forza. Però se c'è, vi risparmiate un passaggio in più con la nulla in caso voi sbagliaste. Quindi lasciate l'anteprima e guardate, sperimentate, fate i settaggi. Allora, io faccio... lo riporto tutto a zero, perché voglio farvi vedere una cosa diversa. Allora, andiamo qua. Cominciamo a fare una specie di fotomontaggio. Io voglio ritagliare il mio profilo e incollarlo qua. E voglio che sia più o meno credibile. Voglio che possa sembrare una foto fatta in questo posto. Quindi ripasseremo alcune cose che abbiamo visto nelle altre parti, più vedremo altre cose sulla luminosità di un qualcosa che viene applicato qua. Allora, come abbiamo detto nell'altra parte, gli strumenti di selezione li usiamo in questo modo. Allora, intanto duplico lo sfondo, utilizziamo questo, che sarebbe lo strumento lazzo, e selezioniamo più o meno il soggetto. Andiamo a chiudere il cerchio, cerchio fra virgolette, senza chiudere la selezione. Ed ecco fatto. Allora, attiviamo la maschera veloce, come avete visto. E adesso cominciamo a dipingere. Quindi, i capelli sono sempre la cosa peggiore da scontornare. Ci possono essere dei sistemi migliori per fare uno scontornamento migliore dei capelli, magari un po' complesso, però io non lo so fare sinceramente. Allora, in questo caso qui, ora zoomo, non mi interessa neanche includere questa parte della barba, quindi vado proprio a eliminarla in questo modo. Quindi se c'è qualcosa che possiamo tagliare, lo possiamo eliminare senza nessun problema. Quindi facciamo una selezione. Ora io non sarò precisissimo, perché il mio scopo è quello di farvi capire come funziona. Non devo essere adesso perfetto. Quindi andiamo a scontornare. Voi fatelo con la massima precisione, quindi cambiate la dimensione del pennello quando qui è troppo piccolo. Oppure aumentate lo zoom, vedete voi. Ecco qua. Quindi state attenti ai bordi. In questo caso bisogna eliminare questo bianco qua dietro, perché altrimenti si vedrà tantissimo. Allora, ingrandisco di nuovo il pennello. Non vi consiglio di usare pennello piccolo su aree lontane dal soggetto, perché ci mettete una vita. Quindi andate qui adesso e usate quello grande. In questo caso scontornare la camicia è abbastanza semplice. Sì, ora ho sbagliato. E quindi, come vi ho detto, invertiamo e facciamo così. Consiglio sempre un pennello con una durezza intermedia, non un pennello estremamente duro. Così andiamo a sfumare. Sbagliato. Ok, nero. Andiamo a sfumare. E il risultato viene, non lo so, migliore. Quindi selezioniamo tutto quello che vogliamo escludere dalla selezione con il nero della maschera veloce. Ok, qua ci siamo. Qua ci manca questa parte. Ok, qua siamo nella parte più difficile. Ho sbagliato, ho selezionato il timbro clone. Sul timbro clone ci ho fatto un video a parte, quindi non sto a spiegarvi qui, in questo corso completo, come utilizzarlo. Comunque serve per clonare delle parti dell'immagine. Quindi qua è un lavoro di precisione, andate a zoomare molto. Che possiamo grandire. In questo caso sto eliminando volutamente questi capelli, perché non mi interessa. Farò una linea anche brutta, magari un po' netta, però non voglio perdere tempo. Perché altrimenti la soluzione, purtroppo, è andare a zoomare tantissimo e fare qualcosa di questo tipo. Vedete, siamo proprio a livello pixel. E qua, con la dimensione A1, guardate addirittura cosa possiamo fare. Possiamo andare a fare le cose in modo certosino, quindi a colorare tutte queste parti bianche e semibianche, che sarebbe il dietro. E in questo caso possiamo scontornare i capelli in un modo anche abbastanza buono, perché io l'ho già fatto altre volte. È un lavoro di pazienza, però il risultato è buono, perché comunque si vedono i capelli ben scontornati. Vedete, qua dovrei stare a colorare tutto così, in questo modo qui, per selezionare. Ma non ho assolutamente voglia in questo momento, quindi faccio un taglio abbastanza netto, ecco qua. Oppure potete fare qualcosa così ed altre cose invece le eliminate, escludendole. Allora facciamo qualcosa di estremamente veloce. Poi possiamo sempre eliminare parti dell'immagine in un secondo momento, anche dopo averla incollata. Quindi, anzi, lo facciamo. E quindi andiamo a scontornare in modo non perfetto, così vediamo anche quello. E qua quindi mando avanti il video, perché vado a selezionare un po' alla meglio i capelli. Ed ecco qua, quindi abbiamo selezionato un po' le parti più bianche dei capelli, qualcosa si vedrà. Comunque preferisco far così che stare a perderci un sacco di tempo. Allora, quindi togliamo, disattiviamo la maschera veloce e adesso facciamo modifica, copia. Andiamo sul documento principale, modifica, incolla. Come potete vedere è stato creato un nuovo livello con sopra ciò che abbiamo incollato. Ed eccolo qua. Allora, io voglio far finta di aver fatto un selfie, diciamo così. Ora, certo, l'immagine è un po' impostata, però ecco. Quindi la cosa che dobbiamo fare è cercare di adeguare un po' la luminosità e il contrasto a quello che c'è dietro. E qua lo possiamo fare con immagine, regolazioni, luminosità, contrasto. E vediamo Photoshop questa volta che i settaggi ci sceglie, automatico. Vediamo un po' intanto occhi sul soggetto. Vediamo un po' come lo modifica. Ed ecco qua. Allora, lui ha portato la luminosità a meno 12, quindi l'ha scurito, e ha portato il contrasto ad 11. Ora clicchiamo sull'anteprima per vedere com'era prima. Guardate il soggetto. Vedete? Decisamente era troppo luminoso, quindi questo settaggio potrebbe andare bene. Noi possiamo addirittura scurirlo ancora un po'. Il contrasto possiamo aumentarlo ancora un po'. Quindi ecco, voi potete ispirarvi al settaggio di Photoshop, perché Photoshop cerca di capire cosa è meglio fare, e seguire il suo esempio. Quindi lui cosa ha fatto? Ha diminuito la luminosità ed ha aumentato il contrasto. Quindi andiamo ad aumentare ancora il contrasto ed abbassare ancora la luminosità per vedere se ad occhio ci piace. Questo è rivolto ovviamente a chi non sa effettuare queste modifiche, perché gli esperti ovviamente sapranno cosa toccare, che valori usare e che strumenti utilizzare. Infatti questa è la luminosità a contrasto classica. Non avranno bisogno dell'automatismo di Photoshop. Io vi dico, voi che magari non avete tempo, non avete voglia, non sapete cosa è meglio fare, utilizzate prima un filtro automatico, guardate se ad occhio vi piace. Se vi sembra carino, buono, ma non perfetto, andate a arrotondare un po' i settaggi. Quindi facciamo ok. Ed ecco fatto. Il livello non è stato convertito in oggetto avanzato, quindi vedete non ha salvato la luminosità. Adesso lo andiamo a convertire, anche se è tardi, però lo facciamo adesso. E ora vediamo qualcos'altro. Allora, immagine, scusate, dobbiamo selezionare sempre il livello a cui vogliamo applicare le modifiche, perché noi le stiamo applicando qui e non dietro. Immagine, regolazioni, vediamo valori tonali. Questo è un grafico che può essere molto utile, ma difficile da consigliare a chi non riesce a utilizzarlo in modo manuale. C'è anche qui automatico, vedete? Però ovviamente questo non è assolutamente il risultato che vogliamo, quindi farei a nulla. Possiamo fare una cosa anche, attenzione, immagine, regolazioni, dov'era? Valori tonali. Possiamo andare in opzioni. E qua possiamo modificare l'algoritmo. Cosa vuol dire? Che noi possiamo dire, quando clicco automatico, io voglio che tu migliori il contrasto monocromatico, oppure che tu migliori il contrasto per canale, oppure che tu mi trovi colori chiari e scuri, oppure che tu ottimizzi la luminosità e il contrasto. Vedete? A seconda dell'algoritmo che io scelgo, il filtro automatico funzionerà in modo diverso. Io avevo comodità di tenerlo così per un altro motivo. Quindi lo lascio così. Fatto a nulla. Ok, ok. Poi qua si possono regolare questi valori. Vedete? E quindi qua possiamo impostare i valori tonali come vogliamo. A nulla. Poi abbiamo, ad esempio, le curve. Ecco qua. Quindi possiamo utilizzare le curve per canale, rosso, verde, blu o RGB, che sarebbe rosso, green, blu, red, green, blu. Qua abbiamo dei filtri già preparati, quindi negativo a colori. Guardate. Cross processing. Quindi guardate i livelli già impostati. Se non sapete come agire. Contrasto medio. Facciamo ok. Vedete come vi ho spiegato nell'altro video, i filtri vengono salvati qua. Perché abbiamo convertito il livello in oggetto avanzato. E poi abbiamo diverse altre opzioni, tra cui il bilanciamento del colore bianco e nero, eccetera, eccetera. Allora, vediamo giusto l'esposizione, quindi restiamo un po' sulla luminosità e poi nell'altro video parleremo dei colori. Esposizione. Spostamento. Correzione gamma. E qua, predefinito, meno 1, meno 2, più 1, più 2. Ci sono dei valori settati che possiamo utilizzare. A nulla. Ovviamente sto riducendo al minimo quello che vi sto insegnando, nel senso che non possiamo fare video di ore e ore e ore su ogni singolo strumento. E anche io non sono esperto da potervi consigliare come settare al meglio gli strumenti. Però le persone, mediamente, li vogliono usare e vogliono che il risultato ad occhio sia buono. Quindi vi sto semplicemente facendo vedere dove potete trovare diversi strumenti. Qua, ad esempio, ci sono le ombre luci. Ecco qua. E vedete, se io aumento le ombre, vedete, è possibile fare anche questo tipo di effetto carino. Guardate. Ecco quando vi dicevo che certi effetti magari non sono studiati per un certo tipo di risultato, ma vengono impiegati per quello, lo stesso. Ma per saperlo dobbiamo vedere un tutorial apposito che ci dirà quali valori cambiare, quanto devono essere netti o meno netti. E quindi serve assolutamente una guida generale. Cioè, io credo che sia impossibile sapere a memoria tutto su come fare a ottenere certi effetti. A nulla. Ebbene, questo è quanto. Quindi nel prossimo video continueremo a vedere i settaggi immagine, vedremo altre cose relative ai colori e poi vedremo anche altre cosettine. E poi passeremo anche ai filtri. Un saluto a tutti.